Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Io sono proprio malato, non è che mi piace, io ho una malattia. Io non resisto. Perché ride? Io ho una malattia, no, no, io devo avere la figa. Per forza, cioè non riesco a ragionare se no. Mi sale un prurito. Ma lei è tipo, cioè perché c'è stata una categoria tipo di amici miei, e loro proprio la figa la contemplano, cioè se metterebbero lì a guardarla per ore proprio la studio. No, no, io non guardo un cazzo, io devo toccare e lavorarci dentro. Ma che toccare? Che guardare? Che cazzo me ne frega di guardare? Non so mica qua a guardare, cos'è un quadro? Guardo i quadri, mica guardo la figa, porco diaz. Ma sta scherzando? Tocco, valuto, controllo. Se magari entra evitate che la laserino. Cambi posto, cambi posto. Noi non lo sappiamo in realtà qual è l'errore, cioè nel senso, a meno che tu non sia un programmatore a quei livelli. C'è un bar che ti fa? Eh però, ti dico la verità, io giocavo, cioè io giocavo, ho parlato con molte persone che hanno studiato in formatica per molti anni, e i giochi sono quasi niente stringhe di codice. Beh no, certo ovviamente, certo. Se c'è un bug è che quando fai l'aggiornamento la stringhe di codice si botte. Quello cazzo sta la macchina, prendo. Non c'è però. Non c'è però. Ah qua qua qua, è una macchina potenziata con le comune. Ah, hai visto? Hai visto? Eh sì sì. Pare te la vedi. Dio santo Dio! Dio santo Dio! Are you just kidding me bro? Are you just kidding me? Dai porco diaz! Porco diaz! Porco diaz! Porco diaz! Ma porco diaz! Porco diaz! Dai ma che... Let's go. Mi succede Shelby? Che ho smesso. Questo mi succede. Adesso sto chillando. Adesso mi godo i semi piantati in questi cinque anni. Fammi vedere cosa c'hai. Ah qua non è male ma non sei in safe. Però. Non dovrebbero vederti. Potresti rimanerci qua. Cioè è pericoloso però è interessante. Ciao Marcus! C'è il signor Marcus. Mi saluti un Marcus al volo. Sono una scertola. Vada. Mi dica un ciao Marcus. Ciao Marcus. Allora, eeeh... Allora, io farei una mossa. Dio povero! Dio povero! Preferisco queste, anche se non sono un granché. Valesio 1. Parte della giuna. Parte della nave. Ciao Valesio! Ciao bello, benvenuto! Ciao Valesio! Eeeh... Rientriamo. Mila. E Shiro. Due culi nella palla a volo. Quello. Di Shiro. A me non mi interessa, sai. Sempre, sempre così. Ti sbattimi la forte. Dio, caro Dio! Ma porco Dio! Ma porco Dio! Che tua madre, quella succhiatrice di cazzi, ne beve quattro al giorno! Ma vai a fare in culo Jack! Ma vai a cagare, figlio di troia! Ma vai a godere da un'altra parte, quella puttana di tua madre, bagascia di merda che piglia i cazzi a mazzi! Fottuto bastardo! Fottuto bastardo! Invasato di merda! Glicemia del cazzo zuccherino! Buongiorno Iello! Puttana Eva! Troia merda! Buongiorno Iello, grazie dei quattro! Come la va? Se avesse un milione di euro, quale sarebbe la prima cosa che... No, 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 no! Ma porca di quella... Dai, dai, con tutta questa sabbia nel mio cazzo di pavimento! Salve! Volevo una scopata anche lei! Buongiorno, scusi, volevo ridere! Allora... Minchia, se sento un altro che suona da fuoco a tutto! Allora, adesso Puglia... Un momento! Easy! Uno vi uno! Ah! Per gli specchietti... Porco porco cazzo! Porco porco cazzo! Porco cazzo! Porco cazzo! Nate il pazzo! Porco il cazzo! Nate il pazzo! Cazzo fa... Nate! Ah, il warning shot è un vecchio gruppo che avevo! Ha scaricato? Easy, ha scaricato! Ma questi due cosa cazzo stanno facendo? Scusatemi! Ma che cosa cazzo sto... Vabbè! Eeeh... Cliente a garà... Ti dico una battuta! Un'arancia e una banana vanno a giocare a carte! Pesca! Sì! Vi do 18 secondi di singolo! Ve l'ho fatto sentire stamattina e ve lo faccio riascoltare! Vi do 18 secondi del singolo! Basta! 18 secondi! Non vi svelo nient'altro! Ma questo è solo l'intro! Questo non spinge! Dopo spinge! Ok! Io vorrei prendere il mouse e scaraventarlo all'esterno della stanza! Una merda quindi c'è... Passo più tempo a pulire per terra che a fare altro? La telin, la telin, la tenello! E' un po' pazzo, un po' pazzo, mi sa! Ciao latte! Pazzo criminalo! Ok! Io faccio il doppio stand anche di questa roba qua! Ordiniamo! Manca la roba! Sì che puoi vincere! Ah non posso! Tu puoi vincere! Posso dire che... Tu puoi vincere! Tu ce la puoi fare! Tu sei l'uxuderista! Eccoli! Sono no con quello dietro è finita! Tira fuori le palle! Vai! Vai così! Vai xuderò! Vai! 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 Oh mio Dio! Te l'ho detto! Sempre crederci! Let's go! Sempre crederci! Quanto cazzo sono forte! Porco diaz! Porco diaz! Dio caro! Merda! Te l'ho detto che abbiamo il fuoco del santo Antonio! Let's go! Let's go! Porca troia! Gli spacco il culo Dio caro! Sono troppo forte il nobile! Non c'è storia? Non c'è veramente storia? Ok! Ma io non... Ma... Si è polverizzato davanti raga! Non c'è... Grazie.